La comunicazione quantistica è oggi una tecnologia matura che vede l'Italia come un paese all'avanguardia in questo campo. In particolare questa tecnologia può essere impiegata utilizzando l'infrastruttura in fibra ottica che è oggi presente su tutto il territorio nazionale e internazionale. Ma molto più importante questa tecnologia dà un aiuto per prevenire gli attacchi informatici come abbiamo appreso recentemente dalle cronache.